Minacciata, sequestrata e ferita con un coltello. Grave fatto di cronaca a Scorzè, dove una prostituta segregata all'interno di una villetta ha subito le servizie del suo ex fidanzato, un albanese di 24 anni, giunto in Italia forse anche con l'obiettivo di farle pagare cara la sua nuova scelta di vita. A dare l'allarme le colleghe della Luciola, sottolineando di aver visto l'uomo giungere sul terraglio armato di coltello. Due pattuglie dei carabinieri hanno quindi raggiunto il suo attuale luogo di soggiorno vicino a via Treviso. Hanno messo in sicurezza la zona e sono entrati in casa attraverso una finestra, bloccando e immobilizzando l'aggressore. La ragazza liberata è stata accompagnata al pronto soccorso. L'ex fidanzato, Aguzzino, è stato portato in caserma.